Fino all'ultimo, io avrei preferito non litigare qui, perché il fatto di litigare tra di noi sarebbe rimasto tra di noi e non fare come ha fatto lei che mi ha infangato davanti a tutti e che poi certe cose, poi non si pottono indietro come dicevo prima perché delle cose ti fanno male, delle cose ti fanno male, quello è il discorso ma io come faccio in questo momento, dopo me ne hanno fatto uno, due, tre, riesco a inguogliare tante cose però me ne devo inguogliare veramente tante, non pensate che vedere lei che piange non mi fa male il problema è sapere, è dentro di me, il problema non lo so più se lei piange o finge, quello è il discorso perché voglio dire talmente delle cose che mi ha fatto, che io non so più nemmeno questo è questo che a un certo punto, come è successo ma per cosa dovrei fingere, spiegami, dimmi, per cosa dovrei fingere a me mi ha fatto male pure quando la volta scorsa, quando ti hanno portato la busta quando ti hanno portato quella busta, tu dovevi dire, tu lì dovevi dire, quelle cose gliele ho chieste io e non farmi passare per la persona che comunque porta in una busta perché le persone che mi conoscono sanno che non è il mio stile è pure tu che mi conosci, che mi conosci avessi detto, no questo non è il stile di Enzo che mi conosci avessi detto, no questo non è il stile di Enzo